Benvenuti ragazzi, benvenuti al vostro Federichina14 Oggi ragazzi siamo qui per andare a fare una nuova serie in cui voi mi scriverete un giocatore nei commenti e io dovrò fare la carta del giocatore di cui mi scriverete in base alla velocità, al tiro, al passaggio, al dribbling, alla difesa, al fisico poi vabbè metterò la nazionalità, la squadra in cui gioca, il nome, il ruolo e l'over o il finale iniziamo con il primo video e ne faccio una mia scelta ovvero facciamo Dries Mertens, l'attaccante del Napoli per questo facciamo Mertens perché io tifo Napoli e niente, iniziamo allora Mertens, di velocità, nella mia carta gli metterei 85 perché comunque è un buon giocatore, veloce e secondo me l'85 va bene di tiro Mertens, gli metterei anche qui un bel 85 perché comunque sulla punizione è molto bravo, sul tiro è molto bravo e niente poi passiamo con il passaggio è un ottimo giocatore, fa buoni passaggi però gli metto 84 di passaggio perché non mi convince molto passiamo con il dribbling il dribbling gli mettiamo un 83 perché non mi sembra tanto forte nel dribbling e nella difesa gli mettiamo un 75 perché è un attaccante Mertens quindi non può avere tanta difesa e di fisico gli metterei un 85 Mertens perché comunque il fisico ce l'ha e allora poi passiamo con la nazionalità ovviamente Mertens è belga quindi metteremo il belgio la squadra in cui gioca quindi il Napoli sempre Forza Napoli andiamo ora ci esce Napoli ecco qua nome del giocatore mettiamo Mertens Dries Mertens l'attaccante del Napoli e vabbè ruolo mettiamo ATT perché sinceramente non mi ricordo che ruolo fa mettiamo ATT e di Oberol nella carta di FIFA ora mi sembra che ha 85 Mertens io lo avanzerei a 86 secondo me un giocatore deve avanzare a 86 la foto io non riesco a metterla scusate e come carta di mettere una bella Europa League che ci sta proprio bene e niente ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale se non siete iscritti mi raccomando scrivete nei commenti i giocatori che volete che io corregga la carta e scrivetemelo nei commenti così io correggo la carta e vi faccio un video e ditemi se vi va bene o no se concordate con me con le statistiche che ho messo e niente dalla vostra Federick Nap 14 è tutto bella ragazzi bella ragazzi